Un pomeriggio unico e speciale per quanti popolano il carcere romano di Re Bibbia. Papa Francesco ha deciso di trascorrere il Giovedì Santo tra i detenuti, molti dei quali lo hanno accolto con commozione nel cortile della casa circondariale, oltre ai rappresentanti della polizia penitenziaria, dell'amministrazione, dei volontari e ai capellani. Tra bracci e lacrime il pontefice ha stretto mani e confortato, toccando i lineamenti di un'umanità ferita e spesso indurita. La messa in cena d'omini, in memoria dell'ultima cena fatta da Gesù con i Suoi Apostoli, è stata celebrata nella Chiesa Padre Nostro, dove Papa Bergoglio ha ricordato che l'amore di Cristo non delude mai, perché Lui non si stanca di amare come non si stanca di perdonare e non si stanca di abbracciarci. Un amore infinito, personale, per il quale il Figlio di Dio non ha temuto la morte, per il quale si è fatto schiavo per servirci, per guarirci, per pulirci. Ma anche io ho bisogno di essere lavato dal Signore. E per questo pregate durante questa messa, perché il Signore anche lave le mie sporcizie, perché io diventi più schiavo di voi, più schiavo nel servizio della gente, come è stato Gesù. Nel corso della celebrazione, come fece Gesù, Papa Francesco si è inginocchiato e ha lavato e baciato i piedi a sei uomini e sei donne di varie nazionalità, anche quelli di un bimbo, imbracciò la sua mamma. Per ciascuno ha avuto un sorriso rassicurante, l'invito a credere in un Dio che non si dimentica mai dei suoi figli.